Frittatina salvacena in un minuto, facciamo due. Padella antiaderente, olio extravergine, a cubetti, carota, sedano, cipolla, patata. Insomma, mettici un po' le verdure di stagione, quelle che hai. Gabriele, posso mettere il minestrone sul gelato? No, 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 no. Accendi, fuoco forte, 5 minuti, girare spesso. Cottura 10-12 minuti, più sono tagliati piccoli e meglio è, e cuoceranno prima. Tutto più facile. Un coperchio aiuterà. Sale, pepe, prezzemolo, due uova, un po' di sale, stessa padella di prima, un po' di carta, olio, uovo. Fuoco medio, dategli il tempo di cuocere, se c'è qualche bolla, la bucate e ci fate andare dentro l'uovo. Girare. Togli un attimo dal fornello, ci metti la verdura su mezza frittata. Con le verdure che abbiamo preparato facciamo due frittate. Mezza mozzarella o altro formaggio, quello che ti piace. Chiudi come una frittata. Fornello, due minuti per lato. Piattino. Puoi metterci vicino del riso, del purè, della quinoa, qualsiasi cereale. Puoi farla più grande, la puoi fare più piccola, ci puoi cambiare le verdure, ci puoi mettere dentro altri ingredienti come il prosciutto. Ci puoi mettere le verdure di stagione, ci puoi fare tutto quello che vuoi. E si fa in dieci minuti, è veramente una ricetta spettacolare. Biscotta. Buonissimo. Salva cena.